E' arrivato anche il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente per dire ai cittadini di votare Manola di Pasquale come sindaco della città di Teramo. Il primo cittadino spiega perché Teramo ha tanto in comune con l'Aquila e con la regione Abruzzo, ora guidata dal centro-sinistra e da Luciano D'Alfonso. Io ai Teramani dico che sono qui per appoggiare Manola non solo perché siamo molto amici, militiamo nello stesso partito e schieramento, ma una sorta di appello che io faccio ai Teramani affinché si possa riscoprire la voglia e il desiderio di un'assoluta necessità. Che questo Abruzzo che ci vede essere un milione e 300 mili abitanti superi questa divisione delle realtà l'una contro l'altra spesso anche a livello campanilistico riscoprendo il fatto che ciascuno di noi ha una sua vocazione e un suo ruolo. Questo è sempre il superamento fra l'Aquila e Pescara per anni, due realtà completamente diverse. Con Teramo è più facile perché Teramo in fondo, a parte che ormai siamo uniti con 35 minuti di automobili rispettando i limiti di velocità, però abbiamo in comune pezzi di storia, la montagna che è una grande occasione economica, abbiamo molto simili alcuni aspetti di possibile sviluppo economico, abbiamo le due università che sono complementari fra loro, ricordavo prima tutti gli aquilani cominciando dai miei nipoti che stanno studiando qui a Teramo, giurisprudenza e così via. Quindi dobbiamo avere la capacità, un'operazione dell'Aquila sta facendo, aiutata anche dall'Ox, si parte da quello che tu hai, le tue vocazioni che sono diverse in tutto l'Abruzzo, di area in area, si capiscono punti di forza, punti di debolezza e poi noi dobbiamo avere un progetto strategico sul quale andare avanti, complessivo in cui vede la sinergia, neanche la complementarietà, la sinergia fra i diversi territori. Di Pasquale, allora l'Unione fa la forza? L'Unione fa la forza, per noi è importante una collaborazione con tutte le province capolocue della regione, in particolare con l'Aquila, che è similare per noi per territorio, ma soprattutto per cultura e considerando che poi l'Aquila è il cantiere d'Europa, per cui la sinergia anche economica fra i due territori aiuterebbe entrambi in una crescita omogenea e anche economica e di relazione con noi, per cui penso che questo sia uno dei primi obiettivi da perseguire nel momento in cui si va ad amministrare un comune. Intanto domani, venerdì 6 giugno alle ore 15 e 30, l'eurodeputata del PD Pina Picerno sarà insieme a Manola Di Pasquale al Caffè dell'Olmo, in Piazza Martiri, per un caffè tutto al femminile. Sempre domani, ma alle ore 19, Manola Di Pasquale chiuderà la sua campagna elettorale in Piazza Martiri, con lei il governatore Luciano D'Alfonso e alcuni dirigenti nazionali e locali del Partito Democratico. Grazie.